1917, URSS, fondata alla CECA, antenata del KGB. 1973, Madrid, attentato dell'ETA ai danni del primo ministro, Luis Carrero Blanco. 2006, Pier Giorgio Welby ottiene la sospensione delle cure. Muore poco dopo. Commenta il Fatto del Giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. L'Origar è stato un uomo degli USA. Lo usarono, lo abbandonarono, invasero quel paese per portarlo alla libertà. Ma sappiamo dove va a finire.